Comune che vai, fisco che trovi, è un'iniziativa organizzata da CNA in questo lunedì 24 luglio 2017 a Faenza per parlare proprio del giorno in cui le imprese piccole, medie e italiane smettono, almeno per quello che riguarda Faenza, di pagare le tasse. Se ne parla in questo incontro, in questa tavola rotonda, con presenti diverse istituzioni. Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega Nord, in questa iniziativa si parla di fisco, si parla anche di territorio. Cosa può dire la Lega in questa città e in questa giornata dove le imprese a Faenza smettono di pagare le tasse? Siamo al 24 luglio. Diciamo che si può fare molto molto di più, nel senso che noi da tantissimi anni che proponiamo un bel taglio delle tasse, adesso l'anno prossimo ci saranno le politiche e il nostro programma elettorale è già in lavorazione e stiamo proponendo la tassa unica del 15% e questo sarebbe un bel aiuto per le imprese perché smetto di pagare le tasse in agosto e iniziare a lavorare per se stesso in questo periodo qui mi sembra un po' troppo. Quindi, secondo il nostro punto di vista, si può dare un bel taglio alle tasse, sia a livello territoriale, e questo si può fare con una tassa unica al 15%. Cosa si può fare invece in generale per le imprese che sono ancora in sofferenza, almeno da quello che risulta dell'indagine di CNA? Beh, sicuramente, come detto prima, il taglio delle tasse è la prima cosa perché senza quello non si può fare niente. Poi, chiaramente, anche il discorso della luce, di queste cose qui, ci sono troppe tasse che si pagano in continuazione e questa è una cosa che non si può andare avanti così. Nelle aziende, ci sono aziende che lavorano e hanno anche delle famiglie e dentro ci sono anche dei dipendenti che anche loro è giusto dare un bel taglio netto alle tasse. Siamo in una delle case degli artigiani, si può tornare alla piccola professione dell'artigiano, quello che lavora manualmente? Ci vuole, ci vuole assolutamente, anche se in questo periodo qui sta prendendo piede sempre di più la grande impresa. Vediamo qui a Faenza che purtroppo guardano solo alle catene grandi del grande commercio. Vediamo che stanno costruendo dei grandi supermercati e questa è una gran, secondo il mio punto di vista, una gran vergogna perché non è possibile fare dei grandi ipermercati, supermercati e non si coltiva la piccola e media impresa. Questa è molto grave perché vediamo anche qui a Faenza che stanno costruendo altri due Lidl. Se non c'è lavoro, se non c'è impresa, se non c'è una piccola impresa, mi sembra impossibile che la gente vada tutti questi supermercati a prendersi da mangiare. L'obiettivo di questo incontro è anche ripartire Presidente dal manifesto della CNA? Sì, partire dal manifesto, fare un po' un'analisi dell'economia locale soprattutto e come dirò poi non è un giorno di festa ma è simbolico. Oggi abbiamo lavorato per lo Stato, da domani lavoriamo per noi. È solo simbolico, non è né una festa ma ci piace sapere dalla nostra indagine nazionale che il Comune di Faenza è il più virtuoso a livello provinciale e nei primi 35 a livello nazionale. Si può ripartire dal piccolo artigianato, dal lavoro della piccola e media impresa? Allora direi si può, si deve ma anche perché l'artigianato, i nostri associati che siano della nostra associazione e altri è il 90% circa dell'economia nazionale. Le imprese, poi ci sono le grandi industrie ma le imprese piccole e medie sono il tessuto sociale dell'Italia. Cosa deve fare l'Italia con le sue istituzioni e cosa può fare CNA anche dal suo piccolo? Allora CNA può fare quello che sta facendo, combattere, fare proposte, combattere in senso molto ampio e metaforico, fare proposte che speriamo vengano accolte. Lo Stato cosa deve fare? Inutile, è scontato dire abbassare la pressione fiscale, ma non è quello. Io vado più nella cellula comune, la cellula nostra, il nostro territorio. Non si deve vedere l'impresa come un ostacolo. L'impresa fa economia, l'impresa fa lavoro. E' una cosa che ci dimentichiamo sempre, quando c'è il contrasto impresa e cittadini. L'impresa è anche cittadini. Quindi noi siamo due vesti, siamo cittadini e siamo impresa. Alle volte c'è conflitto, impresa, cittadini. No, siamo cittadini. Senatore, cosa può fare lo Stato, cosa possono fare le istituzioni affinché questo tax free sia in febbraio se non in marzo? Noi, da quando governiamo in questa legislatura, abbiamo sempre detto che la priorità era calare le tasse. In tanti ci hanno, diciamo così, denigrato. Abbiamo cercato di dare un maggiore potere d'acquisto alle famiglie. Abbiamo cercato di diminuire il cuneo fiscale per imprese e lavoratori attraverso i Jobs Act. Sono azioni che hanno bisogno di tempo per dare i loro esiti, però io credo che in questo momento lo stiano dando. Per una parte. Dall'altra parte, oggi il grande intervento è quello di Industria 4.0, che rappresenta una grande azione di rilancio del nostro sistema industriale per cercare di proiettarlo nel futuro, che è un futuro di grande competizione mondiale. Su questo credo che abbiamo le carte in regola per fare un buon lavoro, perché abbiamo tanti soggetti che hanno le caratteristiche per dare un contributo fondamentale dai centri di ricerca, alle università, ma anche alle associazioni di impresa che sono anch'esse coinvolte e stiamo notando le prime grandi mosse che stanno dando dei risultati. La bella notizia è che a Faenza la tassazione termina prima rispetto agli altri comuni della provincia. La seconda è comunque un 56,4%. Sì, essere fra i comuni virtuosi una volta tanto è un piacere. Questa è la riprova dell'investimento fatto come politica fiscale ancora nel 2012 con l'introduzione dell'IMU. In quell'occasione il comune di Faenza decise di sostenere le imprese applicando una IMU mediamente più bassa rispetto agli altri comuni e questi dati ne sono la riprova perché gli altri elementi di tassazione sono più o meno fissi, l'IMU incide in maniera importante e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che abbiamo dato con la nostra politica fiscale un volano, abbiamo contribuito anche alla ripresa dello sviluppo economico. Vediamo già oggi segnali importanti negli indicatori economici. Cosa può fare la Regione per evitare che si arrivi in luglio, addirittura in alcuni comuni come questa provincia, Cervia, in agosto a finire di pagare le tasse? Allora, la Regione intanto ha fatto una cosa, da quando ci siamo insediati in questa legislatura basta guardare i bilanci di previsione che abbiamo approvato, non abbiamo mai alzato la pressione fiscale quindi è rimasta a quella che c'era nella legislatura precedente. Quando giro per le imprese ci raccontano che la tassa più odiosa che c'è è la burocrazia quindi penso che ci sia ancora da fare un'opera di snellimento e semplificazione burocratica lo faremo, lo stiamo facendo anche per il tramite della nuova legge urbanistica che approveremo alla ripresa dei lavori in autunno in cui speriamo oggi per pianificare una città bisogna approvare il PSC, il RU, il POC, il PUA insomma noi porteremo in aula una legge che prevede un solo piano unico generale e quindi pensiamo di passare dai dieci anni che ci vogliono oggi per insediare una nuova attività di impresa per ampliarla a dieci mesi per poter approvare i piani. Il tax free day a Faenza inizia domani, addirittura Ravenna in agosto, a Cere addirittura il 17 agosto non sembra molto normale questa situazione direttore. Ma è lo specchio del nostro paese, questo osservatorio che CNA ha costituito da diversi anni serve proprio per evidenziare queste disomogeneità e queste condizioni in cui si trovano ad operare imprese che competono non solo a livello territoriale ma in tutto il paese e anche all'estero per la diversità intanto di tassazione che c'è fra il nostro paese e gli altri paesi europei ma anche allo stesso tempo le condizioni diverse in cui si trovano ad operare le imprese anche a distanza di pochi chilometri. Lei faceva notare le differenze nell'ambito della nostra provincia dei comuni principali, basta solo spostarsi di qualche chilometro sulla via Emilia e arrivare ad esempio a Bologna dove troviamo una tassazione ancora più alta dello stesso Cervia che dei 4 è quello che mostra la percentuale più alta anche di circa 10 punti. Quindi questo sommato ad altre tante situazioni sicuramente è un tema che necessiterebbe di una omogenizzazione perché il trattamento ormai delle imprese non è solo territoriale ma guarda ad ambiti più ampi se non altro per le filiere e i distretti industriali che sono in continua mutazione. Da dove chiede di ripartire CNA alle istituzioni? Per quel che riguarda la tassazione, consapevoli dello Stato, della situazione, non si può chiedere tutto subito. Noi pensiamo ad esempio che si dovrebbe intervenire sul rendere detraibile al 100% l'IMU che si paga sui capannoni che già sono soggetti a tassazione anche ordinaria. Quindi è quasi paradossale che in ambienti dove si produce lavoro, benessere, occupazione ci siano due tassazioni diverse. Chiediamo che si possano aumentare ulteriormente le detrazioni riducendo il credito d'imposta che le imprese sono costrette a versare sui fatturati che sviluppano. Chiediamo che venga abolito lo split payment che toglie liquidità alle imprese. Ci sono tanti ambiti dove si può intervenire anche a saldo zero sui conti dello Stato ma rendendo più eco il fisco e la tassazione su tutte le tipologie di reddito. Grazie.